Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Recentemente, il dibattito pubblico è tornato a focalizzarsi sulla tragica vicenda di Liliana Resinovic, una signora di 60 anni scomparsa nella città di Trieste il 14 dicembre del 2021, per poi essere ritrovata senza vita il 5 gennaio dell'anno successivo. Nell'episodio di oggi, 19 marzo 2024, del programma Emattino 4, Federica Panicucci, la nostra stimata conduttrice, ha posto alcune domande incisive a Claudio Sterpin, ospite in studio e presentato come il presunto amante di Liliana. Nel corso di un dialogo appassionato, è emerso che nei giorni antecedenti la scomparsa, Sterpin e Liliana si erano tenuti in contatto più volte di quanto si potesse immaginare, arrivando a scambiarsi sette telefonate, oltre a numerose altre forme di comunicazione. Queste chiamate ammontano a ben 17, con Liliana che aveva preso l'iniziativa 14 volte. Durante una di queste conversazioni, particolarmente scrutata, Panicucci ha chiesto di svelare il contenuto del dialogo. Sterpina ha ammesso che avevano parlato apertamente, arrivando persino a fare progetti per vedersi il giorno successivo. Alla ricerca di ulteriori dettagli su quella telefonata, Panicucci ha ottenuto da Sterpin la conferma che, in realtà, non vi fosse nulla di così significativo da riportare. Questo intricato intreccio di eventi e rivelazioni ci porta a riflettere sulla complessità delle relazioni umane e sul dolore che la scomparsa di una persona può generare tra i suoi cari.